E' un gameplay per un gioco della PS1, un gioco molto scadente, molto di merda, ovvero snowboarding, come vedete non ci sto giocando io, ci sto giocando mia sorrata, 50 punti, sentite la canzone quanto è brutta, altri 50 punti, brava, 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 brava. Sto gioco è proprio brutto, quanto è brutto sto gioco, diamo un voto a questo gioco, 4, 1.150, 1.200, poi va addosso alla ringhiera, va bene. Oh mio dio, è la maddo, si 2000, ma stiamo giocando con le bambole, no vabbè dai, mi sembrava strano. Qua lo faccio. Sì, cos... 2004, attenzione, nei primi 5. Spieghi, che buco di culo, sei quinta, mica sei arrivato almeno uno da quarto, che roba. Bello, questo mi è piaciuto tantissimo. Dosso all'albero, bam! Dai, questa è tua minchia. Quanto è salito sto coso? Oh! Eh sì! No, non ci credo! Madonna! Madonna! Ma come... Ma come cazzo fai? Cioè io premio tutti i tasti, ma queste cose non le riesco a fare. Cazzo... Adesso mi spieghi come cazzo fai a fare quelle robe lì. Ma premi tutti i tasti a caso. Cioè premi quando... Quello che vuoi, quando vuoi, e fai. Cioè, proprio bello sto gioco. Se vi chiedete perché ce l'ho è perché era in dotazione con la PS1. Che è molto bella là sopra. Sì, vabbè. Si parte 500 punti. 600... Puttana! Attenzione! Poi veramente non si scherza. Mamma mia che sa... No! Potevi fare di più Cribbio! Le panchine! L'albero attenta! Ancora te 50. Dai minchia! Supera 2004! Basta! Uuuuh! Se... Ooooooh! Quarta! Uuuuh! Se... Sì! 2650! Vabbè! Vabbè! Addirittura quarta adesso! Devo fare... Minchia! 2006 è il risultato più alto che abbia mai visto in sto gioco di merda! Si parte! Si parte! Ci sono... Si parte forte! Si parte forte! Si parte forte! Occio! Boom! Adesso la panchina! Senti! Adesso la panchina! Credo ci potrebbe finire... Sopra! Non dentro! Guarda come ottieni un joystick! Cioè veramente! Chiedi giocare alla Wii! Che gira il joystick! Perché se gira il joystick! Gira lo snowboard! No! No! L'albero ancora! Oh ma ti piace l'albero eh! Che se mi scappa ancora la cacca! Appena fatta! Cribbio! Che belle cose da dire in un video! Se... Eh però! Potevi far di più Cribbio! Ma quella non è l'assaccionata! Ma il signore mio! Ma non lo vedi? Dove vai? Li finiva la pista eh! Miglia se devo andare a caccare! Miglia la passeggiarla stai facendo! Eeeh! 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 Non l'hai neanche rilasciato! Voglio... Questa me la devi spiegare! L'albero boom! Preso in pieno! Questa salta prende in pieno gli alberelli! Eeeh! 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 Eeeh!